La comunità di Mira a dare una mano tra le macerie, solo loro assieme a noi hanno avuto il coraggio a mani nude di togliere le pietre cadute dopo quel tornado e di aiutare completamente la popolazione. Quella immagine, la prima che i ragazzi di Awakening stanno attacchinando, è uno dei momenti che hanno scelto di riportarsi a Venezia. Era un anno e più di un anno fa e da allora Regione e governo non hanno proprio nulla per i cittadini. Quel giorno insieme ai vicini del fuoco c'erano le attività primi e c'erano con un coraggio quei ragazzi che hanno perso tutto nei loro viaggi e che sono riusciti ad essere al grado della popolazione di Mira nel momento in cui tutto era inaugurato. Solo loro erano lì in piazza e noi ce lo ricordiamo bene e ringraziamo tutti per questa immagine meravigliosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.